Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Nella serata del 28 aprile c'è stata la prima puntata della trasmissione I migliori anni, con numerosi ospiti davvero di prestigio. Il programma ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori e i dati audite l'hanno confermato quanto il pubblico abbia gradito il programma. Insomma, ascolti i pazzeschi per la prima puntata dei migliori anni. Ma sapete quanti telespettatori sono rimasti incollati allo schermo per guardare i migliori anni? Ben 3 milioni e 465 mila telespettatori. Dati ascolto eccezionali che hanno superato tutti gli altri programmi della stessa Rai e battuto la concorrenza. Ovviamente, momenti di grande felicità sia per il grande Carlo Conti che per i piani alti di Viale Mazzini. Complimenti a Conti per la sua dedizione verso il suo mestiere, per nulla facile, che porta avanti con grande maestria, conquistando sempre il cuore dei telespettatori italiani che non perdono neppure una sua trasmissione. Grazie. Grazie.